Il futuro è di chi si muove verso i propri sogni e con GeniZero abbiamo voluto sognare un nuovo modo di muoversi in città. Un mezzo completamente elettrico, capace di abbattere ostacoli, ridurre le distanze e con un design accattivante. Grazie alla tecnologia autobilanciante lo comandi facilmente col peso del corpo. Charge, Società di Plenitude e Geni Mobility hanno l'obiettivo comune di creare una mobilità elettrica sempre più innovativa, inclusiva e accessibile a tutti. Questa partnership rappresenta un passo importante verso una mobilità elettrica urbana che vuole essere sempre più smart ed efficiente. Crediamo fortemente in questo progetto e siamo contenti di poter collaborare con un'azienda che come noi vuole innovare il mondo dell'e-mobility. Grazie a tutti.